Teatro in vernacolo e per ragazzi, musica pop e jazz, la grande storia è quella di un piccolo quartiere della città, ma anche danza e musica classica, posia contemporanea e botanica, torna Real Collegio Estate. Da domenica 14 luglio a giovedì 5 settembre offrirà al pubblico ben 29 appuntamenti, con l'aspirazione di intercettare interessi ed età diversi. La manifestazione è stata presentata giovedì mattina dal presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini. Tantissime iniziative che vanno anche alla scoperta delle tradizioni popolari. Non per niente abbiamo voluto chiamare questa edizione popolare, dare il senso anche alle tradizioni, alla cultura, all'arte. Tra gli altri erano presenti l'assessore alle politiche formative del Comune di Lucca, Simona Testaferrata, Raffaele Domenici, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Lucca, e naturalmente il direttore artistico Paolo Scacchiotti, che così spiega le scelte degli eventi nell'ambito di un programma vasto che vede coinvolte numerose e preziosi realtà culturali del territorio. È un cartellone importante che abbiamo costruito su due pilastri. Il primo, ingresso gratuito, la possibilità a tutti di entrare, vedere e gradire gli spettacoli che faremo. Il secondo, il legame con il territorio. È stata data molta importanza ai giovani, è stata data molta importanza al territorio. Quindi troveremo sia le commedie per i ragazzi della cattiva compagnia, sia eventi di vernacolo, sia eventi di associazioni locali, la Don Baroni e altre. Troveremo commedie, troveremo danza, troveremo jazz, festeggeremo due anniversari, i 20 anni del circolo di Lucca Jazz Donna e i 35 anni del baluardo.